Ciao, lo sai cosa non si dipingeva ai tempi di Ulisse Aldrovandi? Tavole come questa, di piante o di animali. Si dipingevano invece soggetti mitologici e soprattutto religiosi. Lui invece di tavole come questa ne fa dipingere quasi 4.000. E c'è, pensa, un filo diretto fra tavole come questa e i documentari che vediamo in televisione. Qual è questo filo? Vieni a scoprirlo nella mostra. Grazie a tutti.